Buongiorno a tutti. Io avevo deciso di limitare al minimo le conferenze stampa dove fossi io a parlare, perché a me piace sempre fare le cose, però farle in silenzio e senza grandi programmi. Però ora credo che siamo arrivati a toccare il fondo, che siamo arrivati a capolinea e come si suol dire, a capolinea si scende, perché ora veramente ci siamo rotti i coglioni. E vi spiego perché. Noi dirigenti, noi società, spendiamo quasi un milione di euro per far sì che l'Agregas giochi il campionato di serie D. Abbiamo 15 cartelloni, significa 15 sponsor, e gli incassi sono quasi ridicoli. Però attraverso sacrifici personali, attraverso il portafoglio personale alle volte, abbiamo permesso a questa città di avere una compagine che milita in serie D, una compagine che gode di una certa dignità. E gode di questa dignità perché noi, proprietà, noi come società, lo abbiamo permesso e lo permettiamo. Molte volte ci sono state levate discuti a difesa di qualche giocatore e voglio a questo punto dirla tutta, senza chiaramente fare nomi, tutti gli giocatori e dirigenti sono venuti in Agregas, solamente ed esclusivamente anche quelli di Agrigento, anche quelli locali, perché volevano solamente guardare il vil denaro. Nessuno si è battuto il petto e ha detto io amo l'Agregas. No. Sono sempre venuti da me a dire presidente cosa mi dà? E alle volte anche immeritatamente, senza guadagnarsi quello che chiedevano. E io sono stato sempre in silenzio, non ho parlato, però ho mantenuto alta la dignità di questa società. Non ho mai accettato i ricatti. Questo per dircela tutta. Per cui qualche fenomeno che va in giro dicendo che ha al cuore la maglia, no, ha al cuore solo il portafoglio. E anche i giocatori locali. E non voglio fare nomi. Passiamo dunque. Noi, in questa stagione 2024-2025, abbiamo allestito un organico che io oggi ancora confermo, e ho piena fiducia in questo organico, come un organico importante. Perché i giocatori che abbiamo preso, ad uno ad uno, sono giocatori che possono recitare un ruolo da protagonista in questa categoria. Sono successe alcune cose, perché se voi andate a esaminare, e lo dico anche ai leoni di Taspiera, e poi questi leoni di Taspiera sono quelli che hanno goduto degli abbonamenti gratis regalati da qualche affezionato, da qualche affezionato sponsor, sono poi quelli che vanno a criticare la società, non pagando neanche il biglietto. Tenete presente che, per fare un esempio, la Missa ha più di 200 sponsor, noi ne abbiamo 15. Tenete presente che la Missa è incassi importanti, noi abbiamo incassi ridicoli. Però, malgrado tutto, con il sacrificio di questa proprietà, di questa dirigenza, abbiamo ritengo allestito, e ne sono pienamente convinto, una organico di tutto il rispetto. Ora, tutti dicono che siamo violettanti allo sbaraglio, che questa società, che questo organico non è di categoria, che questa è una squadra che retrocederà. Questo lo vedremo, se questo non è un organico di questa categoria. Voglio anche rivolgermi a tutti i leoni di Taspiera. Noi abbiamo preso un allenatore giovane, che io ho sempre detto un allenatore bravo. E una delle poche cose che ho fatto malvolentieri in Agregas è stata quella di esonerare, di esonerare Bonvatto. Perché lo esonerai io a Bonvatto? Dopo tre partite, dove in due l'Agregas aveva giocato dignitosamente e bene, e solamente dei fatti episodici ci hanno portato a non vincere la partita, ad essere sconvitti. ma abbiamo dentro il campo recitato un ruolo da protagonista. L'unica partita dove siamo, diciamo, abbiamo condotto quella partita con il Favara, in maniera indegna, mi portò alla decisione, diciamo oggi, con il senso del poi, affrettata a esonerare Bonvatto. Tenete presente che questa società vive di sbigliettamento, vive di sponsorizzazioni, e io, come ho sempre detto, sto cercando di allargare la base societaria per permettere all'Agregas di avere quelle risorse che possano permettere a questa abrasionata società il salto di categoria, cosa che oggi non è possibile con le risorse economiche che ci sono. Per cui dico in maniera affrettata, esonerai, esonerai, buon fatto. E mi piglio tutta la responsabilità di questo esonero che è stato esclusivamente deciso da me. Ritenei di dare un nome alla piazza importante, storico per questa piazza, Pino Rigoli. Cosa che feci? Diedi il delega al direttore sportivo di condattare Rigoli, di farci una chiacchierata. E la risposta del direttore sportivo dopo la chiacchierata fu che Pino Rigoli conosceva la squadra e che con questa squadra avrebbe condotto il susseguirsi del campionato almeno fino a dicembre. Se poi c'erano all'interno dell'organico delle criticità a dicembre avremmo potuto anche provvedere perché dovete sapere che per ora il mercato degli acquisti e delle gestioni è chiuso, non si può fare mercato. Per cui questa è stata l'intesa con Pino Rigoli. Qualche giorno fa sento delle lamentele da parte dell'organico ma non sono lamentele sporadiche ma sono lamentele organiche nel senso che quasi tutta la squadra si lamentava perché avendo noi costruito una squadra sostanzialmente offensiva si trovavano a fare un lavoro difensivo, molto difensivo. Per cui questo penalizzava le peculiarità di alcuni giocatori nel senso che noi abbiamo giocatori che ancora possono andare avanti con la carriera. Lo fa a social 28 anni, Grillo a trettanto. Sono tutti giovani che ancora hanno qualcosa da esprimere come calciatori. per cui con le caratteristiche che questi giocatori avevano ma si conciliava con il modulo che voleva adottare l'allenatore. Noi abbiamo cercato di fare da pacieri sostanzialmente su questa situazione. Abbiamo organizzato una riunione per chiarire tutte queste cose. i giocatori nella totale interezza, quasi nella totale interezza, hanno manifestato questo malumore al mister. Al mister a questo punto ha ritenuto opportuno presentare le sue dimissioni. io ritengo che la giustezza la giustezza delle posizioni sta nel mezzo perché il dialogo tra organico e allenatore ci deve sempre essere e che l'allenatore doveva portare avanti le sue teorie di gioco perché un allenatore alla seconda giornata trovandosi un organico che non era quello che lui aveva scelto lo doveva modulare o rimodulare mi segui per trasmettere la sua idea di calcio. Questo non è stato possibile ma non è stato possibile non per colpa della società della proprietà ma perché le due componenti hanno trovato dei diverbi. per cui quando mi si manifesta questa situazione la società può fare due cose o mandare 18 giocatori per cui mi pare che la domenica non posso andare io a giocare ci devono andare loro oppure dire all'allenatore troviamo un punto d'intesa questo punto d'intesa non è stato trovato perché le posizioni sono state intransigenti da parte di tutte e due le componenti per cui abbiamo preso atto e abbiamo ringraziato il tecnico rigolo a cui rimane la mia stima e tutto il mio rispetto come uomo perché si è comportato da uomo e come professionista però è chiaro che quando le posizioni non si conciliano la società ne deve prendere atto e pigliare la decisione che poi non ha preso nessuna decisione perché noi abbiamo il mestere ci ha comunicato abbiamo subito la decisione del mestere il quale ci dice io non avendo la fiducia dell'organico giustamente io avrei fatto anche la stessa cosa io diciamo mi ritiro trovando un accordo con la società in modo soddisfacente perché si è comportato da perfetto signore mi segue e ha fatto un passo indietro per cui non è questa società che deve essere criticata devono essere criticati coloro i quali non valorizzano i sacrifici i soldi l'impegno trascuriamo le famiglie perché abbiamo l'agra a sé nel cuore questi signori che ci dicono che siamo dilettanti allo sbaraglio sono quelli che la domenica mi segue vengono a chiedere gli accrediti allo stadio e non vogliono neanche pagare il biglietto o si fanno dare l'abbonamento omaggio che alcuni diciamo così noti imprenditori hanno voluto mettere a disposizione ecco questo è lo stato delle cose poi si parla tanto di questa difesa o tranza di cammarata e si descrive cammarata come mio soggio cammarata non è mai stato mio soggio e non è mio soggio cammarata è un dipendente dell'agregas è chiaro che se cammarata noi perché la città non è pronta ancora economicamente per fare salto di qualità perché quando noi andiamo da un imprenditore e ci ridicolizza dandoci una sponsorizzazione che siamo proprio all'elemosina significa che questa città a differenza di altre città non è pronta per cui quando noi come società abbiamo mandato al direttore sportivo e gli diamo un budget in un girone che è stato drogato da qualche presidente dove i top prior non vengono non chiedono meno di 100.000 euro oggi l'agregas non si può permettere di avere una punta da 100.000 euro per cui cammarata sarebbe il più bravo di tutti se gli dessimo i soldi per poter fare un certo tipo di mercato per cui la colpa non è di cammarata ma la colpa è di una città che assente e inesistente ecco diciamocela tutta questa è la verità poi è chiaro che chi l'ha detto che noi non abbiamo l'attaccante secondo me l'Evè è uno dei migliori attaccanti che c'è nella categoria la Roma ha vinto uno scudetto non avendo la punta centrale cioè Totti in quell'epoca faceva il fasso centroavanti la questione di mentalità è di modulo e io ritengo proprio è completo perché sono stanco e sono stufo e qualcuno di questi giorni staccherò la spina e poi vedremo chi farà calcio ad agrigento e anzi lancio una sfida io sono pronto a cedere l'agregas gratuitamente gratuitamente io sono un uomo che mantiene gli impegni se c'è qualcuno che prosegue il campionato e paga tutti gli impegni che sono stati assunti da ora a fine campionato gli regalo l'agregas perché io amo l'agregas a differenza dei leoni di tastiera che non pagano il biglietto e che si permettono di darci gli odettanti allo sbaraglio questa è la situazione e con questo ho finito io spero che l'amore che ho nei confronti di questi colori sia superiore allo sdegno che mi stanno causando queste persone perché sono delle persone sono delle vittime di questa società che non hanno nessun ruolo nella società sono quattro ubriaconi mi segui che hanno solamente che vogliono solamente divertire criticando gli altri non funziona così voi dovete dare a Cesare quel che è di Cesare e dovete dire a questa proprietà grazie sempre e comunque perché vi permette di recitare un ruolo importante in un campionato nazionale ecco con questo ho detto tutto continuo nel dire che dopo questi contrasti da parte di questi social che io non intendo tanto seguire ha portato a questo sfogo del Patrondeni dove effettivamente non vengono valutate non vengono valutati sacrifici non vengono valutati tutto quello che si fa per amore dell'agregas e poi ci troviamo questi soggetti a criticarci pesantemente noi accettiamo le critiche costruttive siamo stati sempre presenti anzi ci hanno detto che facevamo molte interviste per avere un colloquio una collaborazione con tutti tifosi giornalisti ma vedere scritte delle vere e ideologicamente bugie all'interno di articoli è bene fare chiarezza come ogni martedì la squadra si riunisce e valuta nello spogliatoio la partita della domenica precedente in questo frangente è stato un incontro voluto dal settore tecnico è presente il direttore sportivo cammarata all'interno dello spogliatoio per vedere quali erano le cose che non sono andate in quella partita di Barcellona per vedere cosa c'erano ebbene c'è stata la quasi totalità dei calciatori che hanno diciamo mostrato delle perplessità circa i ruoli da loro interpretati in quella partita è lo schema di gioco è normale che ci sia un confronto costruttivo per il bene dell'Agagas la società a conoscenza di velatamente di questo confronto era ferma a restare e subiva passivamente l'eventuale decisione di quel confronto non abbiamo interpretato in quel momento nessun ruolo dopo che si sono confrontate dopo che alcuni calciatori hanno detto che non si trovavano in un ruolo andando anche a danneggiare la loro carriera ancora tutti giovani è uscito fuori l'allenatore dal spogliatoio senza dare alcuna risposta dicendo che probabilmente nella sua mente non avendo più la fiducia e il consenso da parte dei calciatori per il bene dell'Agagas e per il grande uomo che ha dimostrato di essere rigoli ha deciso di fare un passo indietro e affronta la società la quale la società dice trovate un punto di intesa non ci sono punti di intesa cosa bisogna fare bisogna ripartire rimboccarci le maniche e portare avanti questa gloriosa società che oggi siamo criticati per il posto che abbiamo in classifica ma quando poi ci rimetteremo perché sono sicuro che ci rimetteremo in sesta e daremo soddisfazione a tutta la tifoseria poi ci applaudiranno siamo sempre noi siamo sempre gli stessi nel bene e nel male ci mettiamo la faccia quindi cercare di tranquillizzare di non aggredire di evitare di scrivere nelle tastiere cose non vere noi siamo sempre qua pronti a dire la verità di come sono andate le cose quindi adesso la squadra si allenerà in tranquillità si allenerà con il nuovo allenatore che poi è sempre il nostro mister buon fatto per le motivazioni in premessa date dal dal dottore Deni e quindi aspettiamo tutti insieme una grande 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 partita per domenica perché ritengo che i nostri calciatori abbiano questo spirito combattente per dare una risposta a tutti noi società tifoserie giornalisti più o meno validi per affrontare questa partita importantissima all'esseneto i tifosi devono avere grande fiducia se vogliono noi siamo lì allo stadio combatteremo fino all'ultimo momento per dare la giusta gloria e combattezza questa società è